buonasera signorina buonasera si trova niente ogni tanto ciocco con le mie canzonci che mi appaiono in testa ad ogni parola e niente con le mie parole mentre spiego mi trattengo pure quando invece mi appaiono in testa mentre qualcuno mi sta parlando e mi dice qualche parole e a me in testa mi parte la scimetta devo cercare di contenere l'espressione seria mentre l'interlocutore parla e non è cosa facile non posso garantire mentre mi verrebbe voglia di fare stay in live stay in live comunque stasera playlist libri niente ho fatto passare così nove secondi in più perché volevo essere prolissa era tanto che non dicevo che volevo essere prolissa come se va come ho fatto a non parlarne finora direi ero a capigliata con 10 mila esperimenti ottantordicimila è entrata una mosca e non so da dove è entrata che c'è tutte le zanzarire chiuse ma eppure dicevo sono talmente incasinata con le ottantordicimila playlist più le live più dove vado a fare indagini e cose vari esperimenti test tentativi studio della psiche della razza umana in generale e quant'altro che per forza di cose le playlist ruotano con argomenti a cadenza anche molto distante l'uno dall'altro e quindi solamente oggi riesco finalmente e con orgoglio e lo dico seria 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 a fare il video sul libro di silvia di menna che è anche l'autrice del librone che uso il mercoledì per fare il mercoledì interattivo con gli oracoli delle streghe vicenti la stessa autrice alias silvia di menna che scrive quasi sotto dettatura della sua guida la ninfa euridice ha pubblicato ormai tre anni fa questo libro libro come pregano le streghe questo libro è un compendio di incantesimi orali di incanti orali che dal mio punto di vista nella libreria di una strega o di qualcuno che studia la magia non può mancare questa è la mia streghetta urbana la silvietta vedi la differenza di umiltà silvia è decisamente diecimila volte più umile di me lei ha messo la sua fotina che peraltro silvia è bellissima ha messo la sua fotina cucina sul retro del libro e davanti questa è silvietta nel retro del libro insieme alla presentazione e davanti invece ha messo una bellissima figura di un'anziana da altri tempi come pregano le streghe che ci sta benissimo è il suo nomino qua l'umiltà fatta persona questa ragazza io al contrario sono egocentrica da fare schifo nel mio libro messo la mia faccia in tutti i miei libri c'è la mia faccia che sbuca come nelle copertine dei video da qualche parte il nome sottolineato in fluorescenza e anche il mio logo grosso come una campana perché seppur anche io mi ritenga abbastanza umile sono comunque estremamente egocentrica mentre invece silvietta no silvietta c'ha anche la qualità dell'umiltà estrema in tutto ciò che fa tanto che a volte quando le faccio qualche complimento per i suoi operati i suoi libri i prodotti che crea nella sua bottega di oridice eccetera va sempre in panico si sente in imbarazzo io invece sono sempre quella che gli fa 80 o 10 mila complimenti perché glielo dico sempre lei fa delle vere opere esoteriche gli oracoli delle streghe lucenti è un libro che utilizzo lo sto consumando a suon di utilizzarlo l'altro suo libro di cui ho già fatto la recensione le preghiere di oridice appunto era un libro di canti e incanti pagani che ho trovato davvero unico l'unica parola che lo può descrivere è unico per come pregano le streghe non ci sono nemmeno parole un'altra delle mie perle che rimangono lì qui sopra nei miei libri di magia e che non possono assolutamente andare in altro luogo cosa posso dirvi sono tutti incanti per tantissime situazioni per esempio la preghiera ai nostri spiriti guida vi dico solo i titoli ovviamente se vi interessa il libro ve lo cercate incanto di fata per avvicinare l'amore di una persona incanto con la betulla incanto del fuoco di protezione scudo ne ho letti un po' a caso ora di titoli queste preghiere sono tutte facenti parte del grimorio di Euridice ed è la sua guida la ninfa Euridice una delle sue guide bellissime le prefazioni a parte la la dedica che mi aveva fatto quando presi il libro che è sempre qui io amo la mia streghetta urbana appunto uscito nel 2020 di tutta la sua prefazione che ovviamente non sto a leggervi c'è la prima parte che io trovo perfetta nella sua semplicità di esposizione quindi una delle spiegazioni più semplici e più utili per capire cosa sia un incanto infatti lei scrive questo libro è una raccolta di incanti che cos'è un incanto è l'arte di sapere indirizzare le energie veicolandole verso un preciso scopo come realizzare un desiderio purificare un ambiente allontanare o bandire intenzioni malevole da parte di persone negative come si fa un incantesimo e poi va avanti con le sue spiegazioni la sua prefazione in fondo pagina è anche questa secondo me bellissima e dice riferendosi presumibilmente alla luna madre mia libera quel cuore che sanguina libera quell'anima stanca libera la voce che manca inondaci con la tua luce bianca e riaccendi in noi la speranza sia Silvia è una una persona è una strega per lo più una strega urbana a 360 gradi la sua sempre umile presentazione è rassicurante è una una piccola presentazione che però vi fa capire realmente chi sia la streghetta Silvia di Menna Silvia di Menna è nata a Firenze il 3 marzo del 1970 vive in Toscana nei boschi della Val Bisenzio nella rigogliosa vallata pretese dove la naturale vegetazione boschiva i torrenti vivaci e i borghi medievali ricchi di antiche leggende le fanno da perfetta cornice appassionata di esoterismo e spiritualità studiosa di magia naturale e di antichi culti ha conseguito il diploma di Chandler interessandosi e praticando anche metafonia con risultati a dir poco sorprendenti in questo libro ha raccolto le canalizzazioni del proprio spirito guida di nome Euridice che la sua mano muove con fili e rime nuovi e che d'amor commuove e le coscienze smuove questa è la sua seconda opera tutti i testi sono coperti da copyright internazionali Silvia di Menna 2020 io ovviamente mi sono permesso solo di leggere queste brevi introduzioni e finali con il permesso di Silvia che sa perfettamente come gestisco le recensioni dei libri ma perché non potevo esimermi dal non farvi proprio sentire cosa che persona è solamente da queste poche frasi secondo me si capisce già e dalla sua fotina si capisce già che streghetta sia io dico sempre che è la streghetta erbana del mio corazon questo è il libro come pregano le streghe chi ce l'ha sa perfettamente di che cosa parlo chi non ce l'ha e studia esoterismo studia soprattutto gli incantesimi gli incanti e le preghiere in generale le richieste all'universo dal mio punto di vista meramente di studiosa dell'esoterismo credo che un libro come quello di come pregano le streghe o come i canti pagani delle preghiere di oridice l'altro libro di silvia non possono non far parte della collezione dei grimori incantati non possono non far parte di una biblioteca della strega ma non solo per le streghe anche per chi ha semplicemente la curiosità la passione di capire di conoscere cosa sia un incanto un incantesimo questa parola che tante volte abbiamo sentito solo nelle fiabe vi saluto anche le di costo le di stacco e le di nastrino vi ricordo che qua sotto ci sono tutti i link dei vari social dove mi trovate e un po' più sotto tre o quattro delle mille mila librerie che tengono in vendita i miei libri ma un po' più sopra vi lascio anche il link come faccio a volte in certi libri di dove potete trovare e acquistare appunto anche il libro di Silvia Di Menna come pregano le streghe ciao